Ragazzi ci stiamo per imbattere un'avventura non da poco Questo video non sarà visto le nostre mamme, i nostri genitori Esatto, è facilissimo perdersi, soprattutto con la neve adesso E c'è già gente che si è persa Siamo a Rifugio Campo Mulo e andiamo a bivaco Campo Luzzi Tranquilli ragazzi, non ho sbagliato il titolo del video Ma se andate avanti capirete perché il nome del bivaco è cambiato Mi sei già sopportato, non so, per abbattarmi un'altra volta Ci siamo io e Samuel Santa Mi è fratello Adesso andiamo a vedere la cartina perché non ne abbiamo una Abbiamo la busola però È andata molto male Si cambia rotta perché quella attuale non era possibile secondo No no, dammi qua, dammi qua, adesso faccio io Allora ragazzi, buongiorno, adesso parlo io Allora questo bivaco era fattibile Ma il problema è solo uno che il sentiero finisce da un certo punto Quindi non si va da nessuna parte E cambiamo rotta come ha detto il mitico Dani Ciao ciao Ragazzi, ricominciamo il video Abbiamo improvvisato un nuovo bivaco Bivaco dell'Angelo Adesso qua sopra ci sarà Croce Sant'Antonio Da lì secondo itinerario in due ore e quaranta De Roma arrivare Ci potrebbero essere un sacco di imprevisti Perché l'abbia organizzato mezz'ora Ciao 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 Grazie a tutti. Ragazzi notizia incredibile, da quel che mi dice il mattino è la segnaletica là in fondo, mi ha indicato un nuovo bivacco, bivacco è stato da 5 minuti, adesso andiamo a vederlo, là in fondo. Com'è chiuso? Sogni infranti. Com'è chiuso? Sogni infranti. Com'è chiuso? Sogni infatti. Com'è chiuso? Sogni infranti. quello lì è il divacco eccolo lì ciao Luca ciao 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 Eccolo di qualità Primo risottino pronto Adesso ragazzi Foto delle stelle Andiamo fuori che dove lavarmi i denti Abbiamo giocato a brisco A fin adesso Postazione Letti Mattia sei ancora in mutande anche oggi Direi che il timelapse può finire qua Perché stai facendo cagare il paesaggio Cazzo hanno 40 grammi di proteine dentro Ci stiamo allontanando adesso per tornare a casa Non facciamo il giro più lungo perché è tardi Abbiamo fatto tipo un'ora al passo di briscola Bene, 60 si muove Partiamo anche magari Quindi adesso giù croce Sant'Antonio 45 minuti E poi altri 20 minuti per la macchina Ti muovi Finalmente Ma che figo sto fungo Siamo arrivati Ragazzi video finito Ok